Buon anno a tutti. L'anno che ci siamo lasciati alle spalle è forse stato uno degli anni più duri e più difficili dal dopoguerra d'oggi. È un anno che ha completamente modificato le nostre abitudini e il nostro modo di vivere. Un anno che ha messo a dura prova le nostre relazioni sociali, l'economia delle nostre aziende e delle nostre famiglie. Un anno che ha messo a dura prova anche la nostra piccola amministrazione che comunque con fatica è riuscita a gestire tutta la pandemia e con dei fisiologici ritardi sta completando quelle opere e quegli obiettivi che c'eravamo prefissi ad inizio 2020. Sono molto fiducioso sull'esito dei vaccini che oltre a proteggere persone vaccinate che spero nel corso dei prossimi mesi saranno sempre di più ma riducono in maniera significativa la diffusione del contagio. È proprio per questo che penso che il 2021 sia l'anno del ritorno alla normalità, l'anno del rilancio di tutti i territori e anche del nostro. Ed è proprio per questo che insieme con la mia maggioranza ci siamo già riuniti più volte per definire le azioni amministrative volte accogliere in qualche modo questo rilancio. Le azioni chiaramente si muovono su due fronti. Da una parte la realizzazione di diverse opere pubbliche e qui voglio citare la ristrutturazione del bar storico nella piazza del paese, oppure la ristrutturazione della fontana di Villa Santi, oppure il riconsolidamento del ponte d'ingresso al paese e dall'altra parte invece l'organizzazione di iniziative ed eventi volte in qualche modo a ristabilire quelle relazioni e quei legami che in qualche modo la pandemia ha spezzato. Per fare questo abbiamo messo sul piatto tutte le risorse di cui il comune ha a disposizione e che andremo a discutere, ad approvare con il prossimo bilancio entro un mese circa, nella speranza che ci siano degli aiuti anche significativi da parte degli enti sovracomunali. Grazie 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 Grazie